Salve, care amiche ed amici! Qui ancora una volta il vostro Capitan San Ten Chan, che vi saluta in uno splendido meriggio di autunno inoltrato, perché sento di avere la licenza poetica e vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi sia in Facebook, sia in YouTube e in Instagram, che anche in You Reporter, che già in circa 20 giorni ho fatto quasi 5.000 visualizzazioni in You Reporter, del Corriere della Sera. Allora ringrazio a tutte e tutti coloro che hanno detto che mi voterebbero per il Movimento 5 Stelle e mi candiderebbero primo ministro, perché fra l'altro io non faccio errori usando il congiuntivo, ed io dico anche, senza finte modestie, che mi dovrebbero leggere perché non piango come la fornero e anche la raggi, quindi io non vi raggirerò, ve lo prometto. Sono tanti i temi dei quali vorrei trattare ed è dal 7 febbraio 2013 che ho questo canale di YouTube. Ma la cosa che più mi scoraggia non è che qua si sto per raggiungere dopo circa 5 anni, perché saranno 5 anni di canale il 7 febbraio 2018, il mezzo milione di visualizzazioni del canale. Ma il fatto che mi demoralizza è che la maggior parte dei miei video, dei miei ultimi video, non li hanno visti più di 70-80 volte. Allora devo trovare un nuovo formato di video, devo trovare nuovi argomenti, devo trovare più tempo per girare, devo scrivere di più, ma mi raccomando, so che voi mi ammirate, magari mi stirate pure, una volta c'era una reclame degli anni 80, stira e ammira, ma se veramente mi ammirate così tanto, io che non chiedo soldi attraverso Whatsapp, attraverso i Bitcoin, non chiedo soldi attraverso quello che sia, mi raccomando, visto che c'è un centissimo di dollaro a visualizzazione, diffondete i miei video, condividete i miei video, guardateli e condivideteli, dategli like e commentateli per farmi sapere e fare sapere anche gli altri cosa ne pensate. Quindi se mi volete aiutare supportando il mio canale, io non vi chiedo dei pacchi dono, io non vi chiedo del denaro, come fanno molti, per la Paypal, per delle ricariche di cellulare, ma mi raccomando, guardate e condividete i miei video, dategli like e commentateli e poi fatemi sapere nell'angolo discussione del canale, di cosa vorrete che io parli, quali sono i vostri argomenti preferiti, e quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, grazie per avere fiducia in me, ma soprattutto condividete i miei video, diffondeteli, fateli raggiungere un effetto virale, perché se mi volete supportare o aiutare, questa è la forma migliore in cui lo potreste fare. Poiché altro aggiungere, sono circa 8-10 giorni che non faccio un video nuovo per YouTube, sono stato molto presente nei media, nei social media, Instagram, Facebook, Google+, ma soprattutto You Reporter, e faccio questo video semplicemente per salutarvi e ringraziarvi, di guardarmi, di seguirmi, e per dirvi che presto farò nuovi video, sto cercando degli argomenti, quindi se tutte e tutti voi mi vorreste aiutare, mi sapreste consigliare di sicuro qualcosa che a voi interessa, e dalla prossima, mi raccomando, fate raggiungere un effetto virale ai miei video che più vi piacciono, in questo modo mi aiuterete, perché in 4 anni YouTube mi ha dato 150 dollari. Adesso, dall'inizio di quest'anno, 2017, ho maturato 60 dollari, ai 100 mi pagano, ma magari, grazie al supporto e all'aiuto di tutte e tutti voi, magari riusciremo a superare i 100 dollari questa volta. Che ne dite? Che forse per il 26 gennaio del 2018, che è la data del mio compleanno, invece di 150 dollari, come è successo quest'anno, il 17 gennaio, no, il 26 gennaio 2017, perché per il mio compleanno YouTube mi ha dato 150 dollari che si sono maturati in 4 anni. Forse, grazie a tutte e tutti voi, al vostro supporto, se condividerete i miei video, forse per il 26 gennaio 2018, data del mio compleanno, mi daranno qualche migliaio di euro, chissà. Allora, ringraziandovi di nuovo, poi non vi scordate che io sono disoccupato, e molti mi hanno detto che mi vorrebbero candidato al Movimento 5 Stelle, al Movimento al PD o a un qualsiasi altro partito, o addirittura mi vogliono come indipendente. Beh, raccogliete firme, fate una petizione, nei luoghi e nei tempi opportuni, e così io potrò scendere in politica. Di sicuro non vi tradirò. Che dire? Ho sempre parlato di politica, cercate nei miei video, ma ho parlato anche di altre cose, quindi cercate nel mio canale. Un saluto, a rivederci, se no si fa troppo largo per dargli formato al video. Ciao! Saluti dal vostro Saint-Hen-Chan, dal vostro capitano di vascello, Saint-Hen-Chan. Vi è corazzata, anzi, di vascello ha corazzato. Mi ero proposto a travaglio come comandante del PD, perché lui aveva detto in un video che il PD era una nave senza capitano, ma non mi ha risposto. Poi mi sono proposto anche come capitano del Movimento 5 Stelle, e non mi hanno risposto. Ecco, che devo fare? Datemela voi una risposta. Ecco. Ecco. Se poi vorrete guardare nel mio canale i video dei miei cani, ce ne sono tanti, tanti video. Vi dicevo, nel mio canale ci sono tanti video dei miei cani. Go! Mo' finalmente sta un po' ferma. Questa è la mia cagna. Come potete vedere, e come potrete vedere nei miei video di YouTube, è uno dei miei cani. Lo inseguito è un giardino, perché, non so perché, gioca volentieri, ma non si fa filmare, è sempre molto schiva. Vabbè, si vede che, credi di non essere foto igienica, gli darò un po' di carta, carta igienica, così diventerà un po' fotogenica. Vi saluto il vostro santo inciano, il vostro capitan santo inciano, ciao. E mi raccomando, guardate in YouTube i video dei miei cani. C'è una rubrica dedicata agli animali. Adesso vi lascio, se no il video viene troppo pesante. È proprio schiva, non c'è nulla da fare. Però in alcuni video l'ho potuta filmare. Grazie. Grazie. Grazie.